Siamo di fronte al primo regolamento che in Italia affronta il tema dei corner, cioè di quei luoghi dove si può fare una scommessa, dove si può pagare una bolletta, fino ad ora non regolamentati in nessun altro luogo del nostro paese. Il Consiglio di Stato rispondendo positivamente al Comune di Napoli ci ha detto potete intervenire anche lì, ovvero anche lì potete regolamentare l'offerta del gioco lecito. Ne abbiamo approfittato grazie al capogruppo De Verde, il consigliere Stefano Buono, associazioni hanno lavorato i servizi, l'avvocatura è stata al solito bravissima per regolamentare questa materia. Nello stesso tempo abbiamo introdotto ulteriori innovazioni, per esempio non ai vetri oscurati ma vetri trasparenti perché la luce del sole è comunque un fatto positivo per chi pratica nel modo dovuto il gioco lecito. Guardi che il numero degli adolescenti che nella regione Campania ormai sono prossimi al rischio ludopatia è percentualmente fra i più significativi in Italia e non ce lo dicono i nostri occhi, ce lo dice il garante per l'infanzia. Insomma, continua l'azione del Consiglio Comunale per regolamentare i giochi lecidi sapendo che noi non siamo contro niente ma nello stesso tempo dobbiamo evitare che ragazzi, ragazze, anziani, giovani, donne e uomini cadano nelle trappole della ludopatia che è questione che sta interessando un numero crescente di donne e di uomini. Giocare è bello ma il gioco deve essere felice e mai malinconico.